Il dottor Vito De Palma, candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia, ovviamente il sostegno al candidato presidente Raffaele Fitto. Ecco, perché Raffaele Fitto, perché lo sostiene? Beh, intanto perché Raffaele Fitto è il candidato di tutta la coalizione, è il candidato che ha fatto sintesi della proposta di centrodestra. Per la prima volta, dopo 15 anni, finalmente il centrodestra si presenta unito alle elezioni regionali, dopo aver regalato alla sinistra pugliese, prima con Vento e poi con Emiliano, grazie alle frizioni e alle fratture che ci sono state nel centrodestra. Fitto è questa sintesi e con Raffaele abbiamo una conoscenza oramai ultraventennale, c'è stato anche un percorso politico comune quando Raffaele fondò il CDL a livello regionale pugliese, parliamo di tanti anni fa. e conosco Raffaele anche come persona capace e capace di dare quella risposta positiva al territorio regionale pugliese, in particolar modo a quello tarantino, e per il quale obiettivamente mi accingo, laddove i tarantini vogliono riporre la loro fiducia nei miei riguardi, a collaborare con Raffaele per difendere questa provincia. Grazie.